Era testimone di Geova e pensava che Dio l'avrebbe guarito dalla malattia e si è scoperto poi di cosa era malato dagli anni 90, Prince, cioè di AIDS. Leggiamo appunto gli è stato diagnosticato la sindrome dell'HIV circa sei mesi prima e si stava preparando la morte. Le ultime sconvolgenti notizie arrivano dalla fonte dell'ambiente discografico. Però in realtà questo risalirebbe agli anni 90, sapete che adesso fondamentalmente un malato di AIDS può vivere anche per molti anni grazie al mix di farmaci, di antiretrovirali, una cosa di questo tipo, perdonate se sono impreciso. E quindi chiaramente era molto, sì, indebolito, mangiava raramente e non riusciva a trattare il cibo. Il composto da 57 anni metto 1 aprile, l'altro giorno del mio compleanno, e quindi però avrebbe anche rifiutato di sottoporsi alle cure mediche, perché dice essendo appunto il testimone di Geova, secondo queste indifiezioni, insomma, a quanto pare abbia maturato questa convinzione che Dio con le preghiere l'avrebbe salvato. Riposi in pace.